ciao a tutti oggi prepareremo la ghiaccia reale o glassa per biscotti il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa ingredienti sono zucchero al velo albume d'uovo e succo di limone andiamo il via alla ricetta per chi non avesse lo zucchero a velo può utilizzare lo zucchero semolato nella stessa quantità lo mette all'interno del boccale lo fa polverizzare per 10 secondi a velocità 10 iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero a velo l'albume e il succo di limone azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6 la ghiaccia reale è pronta trasferiamola in una sac a poche e decoriamo i biscotti abbiamo trasferito la ghiaccia reale in una sac a poche adesso andremo a decorare i biscotti in una sac a poche e proseguiamo così con gli altri biscotti ghiaccia reale o glassa per biscotti può essere utilizzata bianca o colorata con aggiunta di coloranti in gel o in polvere grazie e alla prossima ricetta ghiaccia reale o in polvere grazie e alla prossima ricetta ghiaccia reale o in polvere grazie e alla prossima ricetta